Ciao, tutti dei monti c'è lunedì in 10 di giugno di quest'anno 2024. Dalla notizia di oggi nel sito webmanbisvive.com, possiamo metterci in corrente sull'informazione di un cambio nella maniera in cui si chiamerà il centro da distribuzione di aiuto alimento che si chiama Fit in Chitenden in suo nome corrente. Però secondo la notizia più recente, questo nome corrente Fit in Chitenden si farà cambiare a Fit in Champlain Valley.